Buongiorno mondo, io sono Caterina e benvenuti sul mio canale! Oggi reagiamo a video soddisfacenti, scopriremo se lo sono veramente oppure no, se ci soddisfano oppure no, se ci danno soddisfazione, se riempiranno il nostro cuore, le nostre orecchie, i nostri occhi, andiamo a reagire! Ciancio alle bande, bando alle ciance, possiamo iniziare il nostro video reaction! Mi raccomando, commentate qua sotto quanto vi hanno soddisfatto, soddisfatto? Si dice così? Non lo so! Da 1 a 10, questi video insieme a me! Pronti? Andiamo! Primo video! 3, 2, 1! Nooo! Ne è rimasto uno! Nooo! Perché ci fai questo? Che fastidio! O tutti o nessuno! O tutti o nessuno! Ne è rimasto solo uno! Ma che non è mica possibile! Non potete farci questa roba qui! Secondo video! Ma che fastidio che non è caduto in mezzo il martello ma di lato! Queste cose non sono soddisfacenti, ve lo dico! Forse sono io che sono un po' pazza, non lo so! Però bello il modo in cui l'aria fuoriesce da quello... Quello bello! Quello devo dire carino! A 1 a 10 gli darei 6 perché ha il martello che non calcio però dopo... Non perfetto ma nemmeno... Dai, la sufficienza! Terza video! E' fighissimo! Anche io voglio farlo adesso! Ok, ingredienti! Un'ammazzata baseball, un palloncino pieno di acqua... E basta! Possiamo fare un video dove proviamo a ricreare i video soddisfacenti che vediamo, no? Comunque bello! Questo gli do un bel 9 su 10! E' fighissimo quel... Bello, 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 bello! Quarto video! Nooo, non ci credo! Dimmi che è pieno, è ripieno, è ripieno di ghiaccio o è vuoto? Commentate in questo momento se secondo voi è pieno dentro di ghiaccio oppure è vuoto. Io spero sia pieno. Sarebbe figo, eh? Così, no? Ma va bene, è assurdo! No, è vuoto, mi sa, eh? È vuoto! No! No, l'ha rotto! Oddio, non pensavo la roba questa... Sono rimasto un attimo così, eh? Però bello! Che figata! Anch'io voglio trovare un coso così di ghiaccio! Che figo! Sette e mezzo su dieci, dai! Perché volevo fosse pieno, però anche vuoto ci stava e poi però l'ha rotto, peccato! Però dai, sette e mezzo su dieci, comunque carino, sì! Quinto video! Asmr! E dai, schiaccia però! Schiaccialo! Schiaccialo! Che fastidio! Ti prego! Finalmente! Ce ne ha messo un pochettino, ma alla fine l'ha schiacciato! Mi stava ortando un pochettino il sistema nervoso! Questa è la verità! Ma per fortuna, alla fine, ha deciso di salvare il nostro piccolo cuorecino e l'ha schiacciato! Menomale! Siamo salvi! Possiamo continuare a vivere, per fortuna, perché proprio io non resistevo se non schiacciava quel coso, ok? Non resistevo! Sesto video! Sesto video! Bello! Ti prego dimmi che fanno tanta schiuma, 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 schiuma! Che bello! Quello che si aspetta mia mamma quando mi dice di lavare le mani! Che bello! Però pensa la consistenza! Bello, anch'io voglio! Vorrei riproporre l'idea di ricreare i video che stiamo guardando, perché veramente io voglio fare questa roba qua! Cioè, è bellissimo! Guarda quanta schiuma! Mamma mia! Super soddisfacente, questo super mi piace! Ah, mega rilassante! Bello! Bellissimo! Stupendo! Spaziale! Bellissimo! Mi piace! Mi piace! Questo qui mi piace davvero bellissimo! Grazie! Grazie chiunque tu sia stato per aver realizzato questa magnificenza! Che goduria! Che goduria! A sette! Ah, belli quelli con la sabbia! Sì, sembrano dei piccoli ananas! Ah! Niente da dire! Super soddisfacente! Quelli con la sabbia, veramente io potrei guardarli per tutto il giorno, perché veramente sono stupendi! Anche questo, giusto per tornare sempre alla solita, eh, si potrebbe ricreare, penso sia sabbia cinetica! Bellissimo! 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 Complimentoni agli ideatori di questo video! Bene, il video finisce qua! Io ringrazio tutte le personcine carine che hanno dedicato un po' di tempo per mandarmi i video reaction di questo video qua, quindi grazie per avermeli mandati! Se volete continuare a mandarmeli mandateli, quando ne accumulo ancora un po' rifaccio un video reaction e niente, vi saluto, vi mando tanti 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 bacioni! Mi raccomando, lasciate un like perché non vi costa assolutissimamente niente, ma rende felice meh! E ci vediamo in un prossimo video! Mi raccomando, iscrivetevi al canale!